Oggi è festa grande, la festa di un grande santo, San Filippo Neri, per parlarne. Abbiamo chiesto a padre Simone Raponi di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao padre Simone, prego. Della congregazione di San Filippo Neri a Roma. Oggi è festa grande, oggi una festa che in realtà coinvolge tutti quanti noi, perché San Filippo è un santo che in qualche modo ha rivoluzionato il modo di essere apostoli, contemplativi e attivi nella vita della Chiesa. Sì, San Filippo anzitutto è l'apostolo di Roma, insieme a San Pietro e San Paolo, il compatrono, e ha rivoluzionato il modo di essere apostolo stando realmente vicino alle persone. San Filippo appena arriva a Roma, era molto giovane, dopo una brevissima esperienza dallo zio, che voleva farlo mercante, arriva a Roma e comincia una fase che dura diversi anni, anni, all'incirca dieci anni, che gli storici definiscono di eremitaggio urbano. Era un uomo solitario, un uomo che amava essere solo con il Signore, andare la notte di fronte alle chiese per poter chiedere lo Spirito Santo, per poter discernere quella che era la sua vocazione. Tuttavia, nello stesso tempo fu un uomo molto vicino agli altri e soprattutto un uomo che girava per Roma, accostando le persone nel luogo reale della loro vita. Non era un uomo che proponeva un modello stereotipo di santità, una santità per così dire calata dall'alto, una santità schematizzata, ma era un uomo che voleva comprendere il livello profondo dell'anima delle persone che lui incontrava e cercare di far comprendere realmente cosa il Signore volesse da loro. Ecco perché veniva definito il Socrate cristiano, attraverso l'arte maieutica, in qualche modo di far partorire la verità dalle persone stesse, attraverso delle domande, attraverso questa vicinanza, mediante gesti anche molto semplici. Penso solamente a quando incontrava delle persone per strada, le prendeva il loro volto tra le mani e diceva come stai, come stai veramente, oppure se le accostava al petto quando vedeva che erano malate, che stavano male, che avevano dei travagli interiori e in qualche modo poggiandole sul suo cuore trasmetteva tutto quanto l'amore, tutta quanta quella paternità. Lui non ha voluto nessun altro titolo se non quello di padre perché, cito letteralmente, lui diceva è l'unico titolo che suona amore. Lui ha rifiutato anche la porpora cardinalizia, quindi ha rifiutato qualunque carica, qualunque onore, per essere apostolo e per essere a fianco a quelle persone nella loro condizione di vita. Lui incontrava le persone esattamente dove stavano, calandosi nella sua realtà e forse proprio perché lui per primo, destinato in origine a un'altra vita, aveva un altro avvenire davanti a lui, è stato colto proprio in quel suo essere, in quella sua vita che già sembrava preconfezionata ed è stato colto e rivoluzionato dall'arrivo della parola. In qualche modo cerca di riproporre quello che lui stesso per prima sperimentava. Certamente e cerca inoltre di riproporre l'amore per la vita. Fu un grande uomo prima di essere un grande santo. Fu un uomo che veramente amò la vita, amò il mondo, amò le bellezze del mondo, dalla natura, alla musica, alla cultura, all'arte, all'essere vicino alle persone, alla simpatia e alla cordialità con le persone. San John Henry Newman, altro grande oratoriano, diceva che San Filippo era capace di attrarre. Il suo fascino non aveva, io credo, nulla di conturbante, ovviamente nulla di torbido, ma era un fascino che promanava proprio dalla luce, dalla chiarezza, dalla purezza. E questo suo amore per il mondo è molto importante perché le persone sapevano che San Filippo era loro vicino, non era un alieno, non proponeva una forma di alienazione dall'esistenza, dalla vita e questo io credo che sia una realtà molto molto importante che lo rende un santo estremamente moderno. L'amore che l'ha accompagnato e che l'ha infiammato a un certo punto si è concretizzato in un episodio che è proprio la Pentecoste di Fuoco che conosceremo fra poco, prima però alle 7.57, andiamo a vedere che tempo farà quest'oggi con il nostro Meteo. Oggi la Chiesa celebra San Filippo Neri, il papà degli oratori, il santo dell'allegria, il santo dei giovani e il santo degli ultimi, un santo che ha rivoluzionato un po' il modo di fare Chiesa. Ne stiamo parlando con padre Simone Raponi, proprio della congregazione di San Filippo Neri qui a Roma e prima di guardare che tempo farà oggi abbiamo accennato ad un episodio, un episodio particolare, lo abbiamo fatto anche con Don Romano, ovvero quella Pentecoste di Fuoco che San Filippo Neri vive concretamente nella sua vita. Lo guardiamo nel servizio di Serena Cirilli. La Pentecoste di Fuoco, cronologicamente la possiamo inquadrare nel 1544. San Filippo aveva 29 anni, non era ancora sacerdote, era un giovane uomo che girava per Roma pregando e chiedendo incessantemente il dono dello Spirito Santo al Signore. Pare che l'episodio ebbe luogo nelle catacombe di San Sebastiano, la notte della Pentecoste, appunto, e lui tenne nascosto questo fenomeno per tutta la sua vita. Solo qualche tempo prima di morire, ad un suo confratello molto intimo, raccontò quello che era successo. E pare che nella sua preghiera fervorosa per ricevere lo Spirito Santo, San Filippo a un certo punto vide dal cielo arrivare un globo di fuoco che gli entrava nella bocca e gli penetrava fino al petto. Questo fenomeno visibile in questa maniera praticamente causò una dilatazione del suo cuore per cui non stava più nella gabbia toracica. Due costole gli si spezzarono, gli si inarcarono e lui visse per 50 anni con questo cuore, diciamo, nuovo, un cuore infiammato dallo Spirito di Dio. Un segno fisico, ovviamente, come tante volte il Signore suole fare, di una realtà spirituale ben diversa. Ecco, San Filippo Neri chiese incessantemente al Signore il dono di questo cuore nuovo, di questo Spirito nuovo e lo ricevette in una forma mistica, particolare, come segno anche fisico, nel suo fisico, però ricevette questo dono di un cuore nuovo, di un amore nuovo, quell'amore che lui poi seppe diffondere intorno a sé a tutti quelli che incontrava durante tutta la sua vita. Ciò che abbiamo sentito, Padre Simone, ci riporta a quel cuore infiammato che pulsava per tutto quanto il mondo, per tutte quante le persone che incontrava e verso le quali faceva apostolato, animato poi da quella gioia a cui avevi cominciato ad accennarci poco fa, perché tutto può essere gioia. San Filippo è il santo della gioia per eccellenza, è il profeta della gioia cristiana, come diceva San Giovanni Paolo II. Ed è una gioia, quella di San Filippo, basata su due aspetti. Da una parte è un profondo realismo. San Filippo sapeva molto bene e lo ripeteva spesso, vanità di vanità, tutto è vanità. Tutti gli impegni su cui tante volte noi concentriamo la nostra esistenza scivoleranno dalle nostre mani come sabbia. Tutto passa, eccetto il Signore. Lui diceva che chi vuole altro che Cristo non sa quel che voglia, chi cerca altro che Cristo non sa quel che cerca. E sapeva bene quindi della vanità, della vanità di moltissime realtà terrene, su cui gran parte delle persone poi fondano la loro stessa esistenza. Quindi un profondo realismo che non porta alla disperazione, ma porta alla possibilità di sorridere. Non di deridere, ma di sorridere su tante cose. E sorridere soprattutto su se stessi. Quindi l'altro caposaldo della gioia filippina è l'umiltà. Saper cogliere la propria misura rispetto al mondo. Saper cogliere le proporzioni giuste dell'esistenza. E questa profonda umiltà San Filippo l'ha vissuta. San Filippo ha cercato di insegnarla ai suoi e poteva viverla anche in maniera molto libera e anche in maniera paradossale. Era fiorentino, era uno spirito bizzarro, come diceva Giovanni Papini. E quindi un uomo che poteva viverla in maniera anche parossistica attraverso alcune trovate, come ad esempio andare in giro con mezza barba tagliata e mezza no, oppure far cantare ad un matrimonio ai suoi discepoli il De Profundis, quasi per renderli ridicoli. Insomma, tantissime realtà che significavano proprio questa assoluta libertà. Si può sorridere di tutto perché in realtà quello che rimane è solamente il Signore. Allora lui diceva che la vera umiltà è la mortificazione della razionale. Che significa? Significa la mortificazione dell'attaccamento orgoglioso ai propri giudizi. Significa decentrarsi. Significa mettere al posto dell'io, mettere Dio. E questa è la cosa più difficile. Lui diceva che questo vale molto più di digiuni, astinenze e discipline. Per l'epoca dove la disciplina fisica, dove i digiuni, dove la mortificazione corporale era molto sentita, lui completamente la sostituì con la mortificazione della propria interiorità. E questo è molto importante, è anche una forma, diciamo, di mortificazione, per così dire, moderna, perché sapeva bene che lì si giocava la vera santità. E attraverso la gioia era possibile arrivare a questa profonda umiltà e a questa profonda libertà. Umiltà e libertà vissute però sempre in un rapporto, in un legame strettissimo con l'Eucarestia. Abbiamo sentito del fenomeno mistico, ma in realtà tu ci hai parlato di un eremitaggio urbano, di andare in giro pregando. Di fatto il centro della vita di San Filippo, perché ne stiamo parlando ovviamente come il santo della gioia, il santo di tante libertà, anche il santo burlone talvolta, però il centro della vita di San Filippo rimaneva comunque la preghiera, ma soprattutto l'Eucarestia, una vita contemplativa vissuta nel quotidiano. Veramente. San Filippo fu un santo profondamente legato all'Eucarestia, già da laico. era uno dei fautori della comunione frequente, se non della comunione quotidiana. Non dobbiamo dimenticare che all'epoca la comunione quotidiana era una grandissima innovazione. Lui fu molto vicino a un mistico senese, il buon signore Cacciaguerra, che propugnò la comunione frequente e fondò da laico la confraternita della Santissima Trinità nel 1540, poi divenuta Santissima Trinità dei Pellegrini, nella quale diffuse e impiantò a Roma lui stesso la devozione delle quarantore, quindi l'adorazione eucaristica delle quarantore. Per lui l'Eucarestia non era quindi una devozione tra le altre, era veramente il centro della sua esistenza, centro che noi vediamo soprattutto nel momento in cui diventa sacerdote. La celebrazione della messa per San Filippo fu qualcosa di fondamentale, celebrazioni che realmente acquisirono una veste mistica. E questo, mano a mano che lui andava avanti negli anni, non riuscì più a celebrare in pubblico, dovette celebrare in privato. I confratelli, i chirichetti, sapevano anche che dal Sanctus fino alla fine della messa doveva rimanere solo. Uscivano, mettevano fuori dalla porta un cartello con su scritto il padre sta celebrando e dal Sanctus alla fine della messa potevano passare anche due ore in cui avvenivano fenomeni mistici, in cui avveniva la levitazione, dei veri e propri miracoli eucaristici in quei momenti. Doveva ad esempio distrarsi, lui portava sull'altare un orologio o le chiavi per poter guardare altro, perché in quel momento l'effusione del cuore era talmente grande, abbiamo ascoltato della Pentecoste di fuoco, era un'unione che non era solamente risolta, per così dire, nell'ambito dello spirituale, ma anche a livello fisico, che quasi provocava dolore. Quindi veramente un santo legatissimo alle Eucaristie. Padre Simone, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo buona festa, a te sappiamo che oggi c'è una celebrazione in cui sarà coinvolto anche il Cardinal Comastri, quindi buona festa a te e grazie per averci portato la gioia di San Filippo Neri.